L'edizione di quest'anno si propone di affrontare i maggiori temi che si trovano sul tappeto a tre anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha riformato l'Unione Europea e nonostante questa riforma l'Unione Europea ha però dovuto affrontare delle sfide nuove che ne hanno dimostrato per certi versi l'inadeguatezza. In primo luogo la sfida della crisi economica e finanziaria che è in corso in seguito agli attacchi che vi sono stati nei confronti di alcuni stati sovrani, il tema poi della gestione dell'immigrazione al quale è legato anche il tema fondamentale dei rapporti tra l'Unione Europea e il Mediterraneo, soprattutto a seguito della cosiddetta primavera l'Araba, cioè delle rivoluzioni che vi sono state nei paesi del Nord Africa. Questi temi saranno come dicevo affrontati da autorevolissimi relatori, avremo il Presidente del Parlamento Europeo Marco Schulz, diversi ex Presidenti del Parlamento Europeo, il Vice Presidente attuale Gian Pitella. Per quanto riguarda le istituzioni come la Commissione e il Consiglio avremo ancora funzionari di altissimo rilievo come il Dottor Manservisi che è direttore generale dell'ufficio che si occupa degli affari interni e l'Ambasciatore Pierre Vimon che è il segretario esecutivo del Servizio Europeo per l'azione esterna che sarebbe la nuova diplomazia europea che è stata da ultimo creata. Gli studenti in particolare sono suddivisi in due gruppi, vi sono i veri e propri frequentanti e gli uditori. Fra i frequentanti che sono 21, due studenti avranno la possibilità di svolgere uno stage presso le istituzioni europee, in particolare presso il Parlamento Europeo grazie a due borse di studio offerte dal Comune di Modena e dagli organizzatori della scuola.